Buongiorno Sindaco, qui il panorama è fantastico, anzi io adesso chiederei al nostro operatore di fare una panoramica davvero di quello che possiamo vedere da questo luogo fantastico per farvi vedere che nonostante oggi sia una giornata nuvolosa e particolarmente ventosa, qui è veramente bellissimo poter far vedere dove ci troviamo. Sindaco, siamo pronti per la stagione turistica, voi di solito organizzate oltre 120, quest'anno non sarà esattamente così ma non vi fermate. No, non ci fermiamo, guai a farlo, diciamo che il nostro ottimismo non ci ha mai abbandonato, siamo pronti a affrontare questa stagione estiva, una stagione particolare ma credo sempre ricca di grandi soddisfazioni, anche quest'anno ci saranno gli eventi, ovviamente li stiamo rimodulando in base alle nuove normative del distanziamento personale quindi ci saranno tante e tantissime sorprese come sempre. Cominceranno il primo luglio, quest'anno iniziamo un pochettino in ritardo ma anche la stagione sta iniziando un pochettino in ritardo perché adesso sono notizie di oggi che stanno riaprendo le regioni e quindi al primo luglio inizieremo con questi nuovi eventi che ovviamente saranno più piccoli ma di grande spessore. Pensate soltanto che stiamo lavorando a avere ospiti qui, importanti cantanti, importanti attori, anche scrittori, psicologi che sono sempre più che mai attuali, i quali si confronteranno con un giornalista, verranno intervistati e poi ci regalano magari delle performance sempre nel rispetto di questo distanziamento personale. Ciro, qualche anteprima sui nomi. Un cartellone che durerà quanto? Ma diciamo che durerà all'incirca fino alla prima decada di settembre anche se siamo pronti già con una seconda iniziativa che partirà nella seconda decada di settembre e che ci accompagnerà fino a Natale proprio perché stiamo lavorando già da un anno su questo progetto di destagionalizzazione di Numana. Crediamo che Numana abbia tutte le caratteristiche per poter vivere 365 giorni l'anno. Poi mi raccolterai qualcosa anche di settembre e ottobre, però da studio ci chiedeva qualche anticipazione sui nomi degli artisti. Allora, ovviamente io tendo a parlare degli artisti quando ho firmato i contratti. Diciamo che ancora non posso fare nomi anche perché a breve ci sarà una conferenza stampa e quindi non voglio bruciare la notizia. Però insomma possiamo dire che sono nomi di gran livello. Sono nomi di gran livello, soprattutto cantanti. Abbiamo avuto contatto con dei cantanti che non potendo fare i concerti quest'estate si sono ricostruiti la loro attività attraverso questo nuovo modulo di comunicare. E poi ci sarà anche un filosofo molto molto conosciuto, molto importante, che ci regalerà delle grandi emozioni. Per accogliere i turisti in tutto questo voi come vi organizzate per i parcheggi, bus navetta? Non cambia nulla, sempre il trasporto pubblico a Numana sono da anni che è gratuito. Si può accedere tramite turismo Numana a vedere qual è il percorso più vicino a dove si trova la persona. Quindi mattina, pomeriggio e sera, sempre il trasporto pubblico completamente gratuito. Questo ovviamente nell'ottica di far vivere al meglio la nostra cittadina e i turisti, ma anche un po' per tutelare l'ambiente che credo sia più che mai attuale. Cos'è la numanità? La numanità è un'idea nata due anni fa da Marco Marzocca, un attore comico che è molto legato a Numana, che durante un'intervista a un quotidiano nazionale gli chiesero perché passava le sue vacanze qui. E disse sì per il buon mare, per il bel paesaggio, per il buon cibo, ma soprattutto per questa numanità, questa capacità di accoglienza che abbiamo poi noi riassunto in un abbraccio, in un sorriso che equivale ad un abbraccio. Quindi un abbraccio in un sorriso che credo sia più che mai attuale, visto che quest'anno non ci si potrà abbracciare fisicamente. C'è spiegato che a luglio, dal primo luglio al 31 agosto ci saranno tantissime cose, poi comunque da settembre in poi non vi fermerete e ci sarà un'organizzazione diversa. Non ci vogliamo fermare anche perché veniamo da un'esperienza invernale prima del lockdown, molto positiva, appunto con una serie di commedie che abbiamo fatte al Cinemateatro di Numana. Aspettiamo le linee guida che usciranno il 31 luglio, sperando che si torni al più presto alla normalità. Comunque sarà in ogni caso nostra permura a tutte le persone che verranno da noi quest'estate di fargli respirare la sicurezza, ma anche tanta tranquillità e soprattutto cercheremo di emozionare con tutto quello che Numana offre, che credo che non sia poco. A proposito di tranquillità, qui siamo nella panchina dell'amore, luogo ormai caratteristico. Ma la panchina dell'amore è l'amore, cioè l'amore in generale, non riguarda, può essere l'amore di un padre per il figlio, può essere l'amore di un nonno per il nipote. L'amore credo che sia la cosa che fa, il sentimento che fa muovere tutto. Se non ci fosse l'amore, non ci fosse il sentimento, non ci sarebbero emozioni. Noi cercheremo di farvi innamorare di Numana. Invece per le spiagge? Per le spiagge siamo completamente attrezzati. La stagione iniziata ieri purtroppo il tempo è stato poco clemente, ma ci garantiscono che domani sarà una bellissima giornata di sole. Quindi siamo pronti ad affrontare la prova del 9, no? Quindi siamo pronti con tutto il nostro staff. Ci troverete anche lungo le spiagge questi steward, che avranno la funzione sia di monitorare l'andamento della sicurezza, ma soprattutto anche nell'intento di informare i turisti di quello che è giusto fare in questo momento. Io chiedo da studio se c'è qualche domanda per il sindaco. No Ciro, io volevo chiedere se ci facevi un'inquadratura, una panoramica, perché avete già detto praticamente tutto voi su quello che sarà la stagione numanese. Non ce lo deve fare però, uno. Un nome, secondo me, il filosofo potrebbe essere Cacciari. Se ci inquadri il panorama di Numanese. Non mi hai detto dietro, un nome già l'hanno fatto. Ecco, Cacciari c'è, uno l'abbiamo indovinato. Sui cantanti voi dovremmo andare a tentoni. Guarda che meraviglia il pedola, in fondo il porticciolo. Che spettacolo. Ma sono cantanti che bene si inseriscono nello scenario numanese. Quindi sono cantanti importanti ma che hanno un timbro canoro molto particolare. Ecco, il sindaco ha parlato di eventi di piccole dimensioni. Ma dove si svolgeranno comunque queste manifestazioni? Avete già individuato delle location, sindaco? Allora, gli eventi si svolgeranno sempre in piazza e avremo una disposizione delle seggiole cosiddetta diffusa. Quindi abbiamo dato più suolo pubblico, ovviamente ai bar, che così uno può anche bere qualcosa e godersi lo spettacolo. Che ricordo, i nostri spettacoli sono completamente gratuiti, finanziati con gli sponsor. Quindi non ci sono soldi delle casse comunali. Ma poi altre seggiole che saranno distribuite con un modo molto originale, proprio per mantenere sempre il distanziamento personale, ma anche godere una bella serata. Anche perché nonostante tutto gli sponsor hanno risposto alla grande. Sì, devo ringraziare gli sponsor perché nonostante siano di meno, ovviamente, perché il momento è critico un po' per tutti. Però hanno risposto credendo molto in questa attività che stiamo svolgendo da cinque anni, che è un'attività che poi fa girare l'economia numanese. Io credo che oggi più che mai bisogna porre attenzione al turismo, perché il turismo credo che sia l'unica attività che ha una potenzialità enorme nelle assunzioni. E quindi ritengo che lo Stato dovrebbe fare molto per questa industria, proprio perché soltanto l'industria deve assumere i dipendenti, non lo Stato. Io credo che la cassa integrazione è un raggiungimento sociale molto importante, un diritto molto importante, ma credo che in realtà rappresenti un fallimento di un'economia. Quindi non è un buon segno. Quindi speriamo, incrociamo le dita in questa economia che deve ripartire, come tutte le altre economie legate al nostro territorio. Bene, io lo ringrazio il sindaco Gianluigi Tombolini. Direi che insomma da Numana è tutto, le immagini parlano da sole. Ve la faccio io una domanda in conclusione. Cosa ne pensate di questo panorama dalla Perla del Conero? Noi siamo rapiti da questo panorama, è davvero meraviglioso. C'è qui anche il deputato della Lega, Tullio Patassini, che allarga le braccia. Non so se è un frequentatore della spiaggia di Numana, ma sicuramente anche lui è rimasto senza parole nel vedere queste immagini meravigliose. Perché anche se la si conosce, Numana è sempre bellissima da ammirare, no onorevole? Numana è incredibile. Siamo usciti con un video. Questo panorama ce lo invidiano non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E questa montagna che si getta nel mare è un sogno per tantissimi marchigiani, ma in particolare per tantissimi turisti da tutto il mondo. Questi sono gli esempi della bellezza delle nostre marche. Eh sì, davvero. Comunque ci lasciamo con negli occhi questa meraviglia. Ringraziamo il sindaco Tombolini per essere stato con noi, per il tempo che ci ha dedicato. Io spero presto di tornare a Numana per un selfie anche sulla panchina dell'amore, con chi di dovere. Vedremo insomma chi portare, visto che si parla di amore in generale. Anche lì c'è la fila, immagino. Chiedono se c'è la fila, sindaco. No, la fila per fare i selfie con te. No, no, ma in generale credo che comunque d'estate sia uno dei punti più belli e panoramici e davvero ci sarà la fila. Ci vorrà uno Stuart anche lì, ma sta sindaco. In moda molto il selfie, diciamo che la panchina è molto ambita. Eh sì, eh sì, eh sì. Complimenti anche per questa idea, noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Un saluto al nostro Ciro Montanari, a Francesco Marconi, al sindaco di Numana Gianluigi Tomolini. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento. E il turismo. Grazie, grazie, buongiorno. Grazie a voi tutti, buon lavoro.